Ciao a tutti, innanzitutto ci tengo a dire che sto benissimo, purtroppo non avevo la maschera perché già a Torino avevo subito una frattura e quindi dovevo attrezzarmi per farne un'altra e sicuramente in settimana ne faremo una su misura. L'inizio è stato sicuramente sfavorevole, loro sono partiti forti, però io credo che poi dopo il gol abbiamo iniziato a fare la partita fino ad arrivare ai tempi di recupero dove l'abbiamo vinta e io credo che sia una questione di voglia, di cuore, di non mollare mai, di atteggiamento e siamo un gran gruppo, questa è l'unica verità. Beh, sicuramente lo dedico ovviamente alle mie tre bambine, Bianca, Regine e Sole, sono molto contento ero già contento con Ludinese per averlo ritrovato e stasera con questa vittoria davvero è una gran soddisfazione per tutti. Sì, sì, per me non era un problema continuare la partita con il naso così, ci sono abituato e sono contento di averlo ripagato e l'abbraccio col mister c'è, lo sapete, l'anno scorso, non potrò mai dimenticare il primo giorno che è arrivato il mister e la riunione che abbiamo fatto e io credo che da quel giorno ci sia stata la svolta. Sì, sì, come tutte le partite, non ci sono partite facili, lavoriamo sempre benissimo in settimana e da domani testa alla prossima.